Le mamme lavoratrici hanno difficoltà con i propri piccoli bambini, infatti non possono beneficiare del supporto di una struttura pubblica dove portare i figli. Gli asili nido comunali sono tre, ma bloccati dalla burocrazia, ma anche per battaglie giudiziarie ed appalti scaduti. Quindi tutti e tre sono chiusi. Si tratta di quello di via indipendenza, convenzione scaduta a giugno senza persecuzione del servizio, che poteva ospitare 71 bambini, di raccompresa tra i 3 e i 36 mesi. Quella a bel vedere, dopo vicende giudiziarie e ricorso al TAR, ha visto la riconsegna dell'immobile a Palazzo di Città. Unico spiraglio invece per l'asilo di Via Turco, dove si dovrebbe chiudere la gara e permettere dal 2019 di riprendere con 30 bambini ed una giudicazione di 5 anni ed una cooperativa. Si aspetta che si subiano queste vicende e si possano riaprire gli asili nido.